Dopo 30 anni di chiacchiere e false promesse parte la procedura per la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania. Ho chiesto all'ANAS di essere stazione appaltante dell'opera che sarà costruita con fondi dello Stato e della Regione. Abbiamo fatto pubblicare il bando di gara e in estate, se tutto andrà bene, conosceremo i nomi delle imprese che lavoreranno ai quattro lotti. Entro l'anno apriremo i cantieri e la Sicilia che cambia. Così il Presidente della Regione, Nello Musumeci, nella qualità di commissario per la Ragusa-Catania, a proposito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del bando di gara per i lavori di realizzazione dell'importante infrastruttura. L'investimento complessivo è pari a 1 miliardo 237 milioni di euro. Quattro i lotti esecutivi della nuova arteria che prevede il collegamento dell'innesto tra le statali 514 di Chiaromonte, 115 sud occidentale Sicula in territorio comunale di Ragusa, alla connessione con l'autostrada Catania-Siracusa. Il tracciato avrà uno sviluppo di 68 chilometri e sarà realizzato prevalentemente in corrispondenza delle sedi stradali, delle attuali statali 514 per 39 chilometri e 194 per circa 29 chilometri. Lungo il tracciato è prevista la realizzazione di 11 viadotti, di una galleria naturale a doppia canna da 800 metri e di un attraversamento ferroviario. Dieci gli svincoli che saranno realizzati in corrispondenza delle strade provinciali 7 e 5 delle località di Licodia e Ubea, Gran Michele, Vizzini Scalo, Vizzini, Francofonte Est e Ovest, Lentini Centro, oltre alle connessioni con la Statale 115 e l'autostrada Catania-Siracusa. Le offerte digitali corredate dalla documentazione richiesta dovranno pervenire entro le 12 del 22 aprile 2022 sul portale Acquisti di Anas.